FIGHT FOR YOURS Chiaramente, come dicevi anche prima, è la tua quarta vittoria in Bellator su 5 match, un record di tutto rispetto, terza vittoria consecutiva. Che cosa ti aspetti adesso dal tuo futuro? Che cosa vorresti da Bellator? Io vorrei prima o poi la scintura che è vacante e negli strawweight. Spero che prendino in considerazione questa proposta. Assolutamente. Innanzitutto grazie per la disponibilità. Un ottimo momento per il Rendocchi Dojo. Casa tua. È arrivata una grande vittoria a Che Giorgios a Roma. Oggi hai vinto tu a Bellator. Come festeggiare questa vittoria? Vado a casa, mi riposo, sistemo casa. Vado in palestra e festeggio con il mio team in pace, con la mia famiglia. Sono molto felice della nostra scuola, dei progressi che stiamo facendo. Anche Dario Bellandi nel Cage Warrior. Anche Giacomo Nuzzi ha preso il bronzo ai mondiali di kickboxing sempre questo mese. Abbiamo fatto veramente dei grandi match. È stato un mese intensissimo, ma molto soddisfacente. Sono contenta. Grazie ancora Chiara. Ragazzi, Chiara Penco.